Ciao, oggi faccio questo breve video per aiutarti a comprendere che cos'è il tapping ma soprattutto guidarti nella sua applicazione. È molto veloce, una cosa molto semplice da fare. Il tapping o comunque detto anche FT, Emotional Freedom Technique, è una tecnica di riequilibrio emozionale e consiste nello stimolare i meridiani che vengono utilizzati anche nella medicina cinese tipo l'agopuntura, lo shatsu, però utilizzando solo la punta delle dita e tamburellando dei punti specifici. In questo modo andiamo a rilasciare delle emozioni su cui noi ci concentreremo. Il discorso principale è riuscire ad interpretare l'emozione che vogliamo rilasciare o interpretare comunque il problema e costituire una frase adatta per poter intervenire. La prima cosa che devi fare è identificare il problema principale che vuoi azzerare. Diciamo che normalmente tutto è connesso a un'emozione, cioè qualsiasi problema tu abbia c'è una tua sensazione e quindi dobbiamo lavorare esclusivamente su quella. Non possiamo per il momento lavorare all'esterno, quindi sulle altre persone, ma bensì lavoriamo su noi stessi. Oltretutto questa è una tecnica di autoaiuto che è molto semplice e ci aiuta nella quotidianità, cioè quindi va utilizzata il più spesso possibile e comunque utilizzare tutti i giorni proprio per mantenere pulito il nostro sistema energetico. Se non sai quali sono i punti, adesso li vedremo comunque insieme perché faremo un piccolo esercizio. Ma la prima cosa è, come abbiamo detto, è riuscire a individuare qual è il problema principale e formulare una frase. La frase viene sempre formulata dicendo anche se e poi definendo il problema, cioè ho questo problema, io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Questa è la formulazione base. Si pronunciano queste parole proprio perché ci sono sempre delle inversioni energetiche, quindi iniziare a utilizzare l'accettazione nonostante il problema inizia a mettere in silenzio l'amigdala e quindi a rilassare il corpo e la mente e da una posizione di rilassamento il nostro cervello inizia a produrre anche delle nuove idee, dei nuovi pensieri che emergeranno e verranno a galla durante questo processo. Quindi mettiamo il caso che il tuo problema di questo momento è l'insoddisfazione. Mettiamone una a caso. Quindi di che cosa sei insoddisfatto? Di che cosa in questo momento ti porta a provare questa sensazione? Quali sono i pensieri che stai formulando per poter dire che sei insoddisfatto? Che cosa sta succedendo nella tua vita? Quindi devi iniziare a capire e comprendere un quadro generale. Sicuramente nel quadro generale non ci sarà solo un'insoddisfazione, ma bensì ci saranno magari anche della noia, dell'apatia, dei blocchi, del senso di disagio. Insomma ci saranno una serie di cose, ma io ti dico prendi solo esclusivamente una cosa, un'emozione che vuoi rilasciare. Più sei preciso meglio è. Dopo aver definito questo problema che quindi è l'insoddisfazione, a questo punto andiamo a localizzare questa emozione. Possiamo iniziare ad ascoltare il nostro respiro e iniziare ad ascoltare questa emozione, questa insoddisfazione dove si presenta nel corpo, nello stomaco, nella gola, nella pancia, nel cuore. Insomma dobbiamo dare una localizzazione. Dov'è questa insoddisfazione? Dobbiamo magari iniziare a produrre dei pensieri che abbiamo sempre fatto per creare questa insoddisfazione e una volta fatto questo possiamo anche iniziare a valutarne l'intensità. L'intensità si valuta in una scala, detta una scala da 0 a 10, dove 0 l'intensità è nulla e 10 è il massimo che puoi avere, puoi provare. Non c'è alcun giudizio, quindi non c'è una cosa giusta o sbagliata. Ognuno ha la sua scala di valore, quindi mettendo come esempio questa scala da 0 a 10, dove 10 è il massimo dell'intensità, prova a definire dove ti senti in questa scala. Puoi anche immaginare una linea che va da 0 a 10 con tutti i numeri e far scivolare il dito in questa linea e sentire dove ti sembra che l'intensità sia giusta e corretta per te. Se fai tutto questo lo puoi scrivere anche in un foglio per avere con più precisione e ricordarti dal punto di partenza in cui hai iniziato, appunto per vedere come si sviluppa questo processo e a che punto e come si evolve. Quindi una volta detto questo e fatto questo, puoi iniziare a procedere picchiettando il punto karate, dicendo anche se sono insoddisfatto, io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Anche se sono insoddisfatto, mi amo e mi accetto totalmente e completamente. Puoi appunto fare questa dichiarazione sempre in un modo anche diverso, non è che devono essere queste parole. L'importante è che sia un'accettazione e l'importante è che ti senti a tuo agio anche nel pronunciare questa frase. Anche se mi sento insoddisfatto e questa insoddisfazione è 8, metti che l'hai valutata 8, io mi amo e mi accetto completamente profondamente. Fai un spiro profondo e poi inizi a procedere su tutti i punti che già conosci, che uno è sopra la testa e pronunci solo la frase sono insoddisfatto. Poi sulle sopracciglia, un punto, o a destra o a sinistra o tutti e due, sono insoddisfatto. Insoddisfazione, questa insoddisfazione è 8, sono insoddisfatto, sono insoddisfatta, sono insoddisfatta sotto il braccio, insoddisfazione, tutte le dita, picchiettando solo i polpastrelli, respirando profondamente. Ok, adesso hai fatto il primo giro, il primo round. A questo punto puoi iniziare a rivalutare l'intensità, se questa intensità si è abbassata, si è alzata o è rimasta uguale. Se è rimasta uguale puoi iniziare a bere un bicchiere d'acqua e procedere di nuovo. Se invece si è abbassata puoi sia procedere ancora un po', abbassarla dipende a quant'è il livello adesso, se è intorno al 5 o al 6 puoi iniziare a procedere con i giri in positivo. E a questo punto ti puoi inventare delle frasi di risoluzione del problema. Quindi, io lascio andare tutta l'insoddisfazione, io posso sentirmi libera di lasciare andare l'insoddisfazione, io voglio lasciare andare tutta l'insoddisfazione, io mi autorizzo e posso lasciare andare tutta l'insoddisfazione, voglio sentirmi libera dall'insoddisfazione, mi sento già libera ora dall'insoddisfazione, mi sento meglio ora che sono libera dall'insoddisfazione, questa insoddisfazione se n'è andata e sono finalmente più felice. Io sono libera dall'insoddisfazione e mi sento bene. Allora, a questo punto anche qua si inizia a valutare. Non subito si abbasserà totalmente l'intensità e non subito si otterranno dei risultati o comunque non sempre. Può darsi che invece questa intensità sia già azzerata. Se non si è azzerata ti chiedo di ricominciare di nuovo tutto da capo e ricominciare con lo stesso procedimento dal punto in cui sei arrivato. Mantieni comunque l'attenzione a tutti i pensieri che emergono rispetto a questa insoddisfazione perché poi in un secondo momento andremo a riprendere anche questi. Ma questo è il primissimo esercizio che ti conviene fare e prendere praticità rispetto a questa favolosa tecnica. E con questo si possono cancellare veramente tutte le emozioni non solo del presente anche quelle del passato ma anche quelle che potresti avere nel futuro nel senso che si può generare quello che tu decidi, deciderai essere necessario per te. Ma come ho detto per oggi è tutto, inizia a identificare il problema, identificare la sensazione che ti crea questo problema, a valutare l'intensità e a localizzare nel tuo corpo la sensazione, definire la posizione. Questo è l'esercizio che puoi iniziare a fare da subito, non hai bisogno di nessun tipo di strumento, hai bisogno solo di qualche minuto di tempo e ritrovare un po' la serenità. Permettiti di respirare e di lasciare andare perché il respiro è la prima connessione con l'esterno ed è la prima cosa che puoi permetterti di cambiare per poter cambiare il tuo stato d'animo. Per oggi è tutto e ti do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!